Musica Oggi la CGL è in piazza per far partire la campagna referendaria, liberi il lavoro con due sì. Siamo in piazza prefettura a Catanzaro con Raffaele Mammoliti, il segretario provinciale della CGL di Catanzaro. Sì, oggi parte la campagna referendaria della CGL, infatti in tutte le piazze d'Italia ci sono iniziative, manifestazioni, volontinaggio, proprio per dare l'avvio di questa campagna referendaria che ha vista la CGL impegnata nelle raccolte delle firme, sia per quanto riguarda l'abolizione dei Vashir che per quanto riguarda la responsabilità solidale. Mentre non è stato ammesso quello sul famoso e importante articolo 18. Noi l'appello che lanciamo è che chiediamo al Governo nazionale di fissare subito la data per poter risvolgere appunto il referendum. Sappiamo che in questo momento c'è un fermento di un lavorio politico istituzionale che sta ragionando e discutendo sulla durata di questo Governo. Noi riteniamo invece che in questo momento la priorità sia invece il lavoro, i problemi della crisi e dello sviluppo produttivo. Per questo chiediamo da questa piazza, ma credo da tutte le piazze d'Italia, al Governo nazionale di indire subito la data del referendum perché vogliamo costruire questa grande partecipazione democratica e far sì che questo impianto di tutela dei diritti che è stato smantallato possa essere effettivamente ripristinato. Grazie per la visione!